Sono sei comuni toscani che tra i 22 chiamati ad eleggere il proprio sindaco potevano andare al ballottaggio contando più di 15.000 abitanti. E tutti e sei sono nuovamente chiamati alle urne il 28 e 29 maggio perché in nessuno c'è stato un candidato che ha superato il 50%. Tre di questi sono capoluoghi Pisa, Siena e Massa. In tutti e tre il centro-sinistra cerca di riconquistare il potere dopo averlo perso cinque anni fa. D'altra parte il consolidamento delle giunte di centro-destra potrebbe tirare la volata ad altre elezioni alle porte, Firenze e Prato il prossimo anno e la Regione nel 2025. In nessuno dei capoluoghi si sono registrati apparentamenti ufficiali con gli sconfitti. A Pisa il sindaco uscente Michele Conti, sostenuto dal centro-destra Unito, ha sfiorato il bis al primo turno con il 49,96%. In posizione di rincorsa c'è Paolo Martinelli, candidato sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Non ha ottenuto, Martinelli, l'appoggio della sinistra radicale. Ciccio Auletta, 6,3% al primo turno, ha dichiarato che rimarrà all'opposizione. Chiunque vinca ha lasciato quindi la libertà di scelta ai suoi 2708 elettori. Nessun apparentamento ufficiale nemmeno a Siena, dove di sicuro il sindaco sarà donna. La sfida è tra Nicoletta Fabio, centro-destra, e Anna Ferretti, centro-sinistra, separate al primo turno da 476 voti in più per la prima. Nella città del Palio è soprattutto il civismo a fare gola e in particolare il 22% degli elettori che al primo turno ha scelto Fabio Pacciani, arrivato terzo. Lui, Pacciani, dopo aver incontrato entrambe le candidate, non si è comunque espresso, lasciando ai suoi libertà di coscienza. A massa, il tradizionale duello, centro-destra, centro-sinistra, si porta dietro le ruggini della spaccatura tra Lega e Forza Italia da un lato e Fratelli d'Italia dall'altro, che si erano presentati divisi. Ha prevalso tra i due il candidato della Lega e il sindaco uscente, Francesco Persiani. Nessun apparentamento ufficiale, ma il richiamo all'unità da parte dei vertici di centro-destra è risuonato forte in queste due settimane e quel 20% lasciato per strada da Marco Guidi potrebbe far comodo nella sfida contro Enzo Romolo Ricci, il candidato PD che ha ottenuto l'appoggio di Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, ma solo per il voto. Pietrasanta, Campibisenzio e Pescia sono gli altri tre comuni in cui si voterà di nuovo domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A Pietrasanta si ripete lo schema di massa. Centro-destra diviso al primo turno, il candidato di Lega e Forza Italia e sindaco uscente Stefano Giovannetti sfiderà Lorenzo Boronzasca, candidato del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. A Pescia, sulla scheda ci sarà il nome del candidato di centro-sinistra, Riccardo Franchi, e quello del civico Vittoriano Brizzi. Tutta a sinistra, invece, la scelta Campibisenzio tra il candidato del PD Leonardo Fabri e Andrea Tagliaferri, sostenuto dalla Sinistra Unita e Movimento 5 Stelle. Per tutti la sfida è conquistare gli astenuti. L'affluenza complessiva al primo turno in Toscana è stata del 58,1%, in calo di un punto e mezzo rispetto a quella del 2018, quando si votò solo di domenica.